e buonasera benvenuti al webinar dopo due settimane oggi presentiamo un nuovo calendario così denominato post vaccinale leggiamo il programma di oggi sapete già come interagire con questo webinar con l'alzata di mano comunque scrivendo in chat oggi c'è anche cristiano che risponde alle vostre domande in chat leggiamo il programma qui parliamo del calendario e quindi gli slittamenti e le modifiche del calendario post vaccinale il programma online di marzo la sessione strategica psicoprofessionale poi la sorpresa dell'arrivo delle polo master europei che vi presenterà il professor giovanni tra qualche secondo l'altra sorpresa è l'upgrade degli appartamenti a brozzo siamo stati a brozzo all'inizio di questa settimana per prenotare gli appartamenti per visitare rivisitare la struttura e preparare tutto per dare la possibilità ai ragazzi di banking di poter anche loro acquistare un upgrade come avviene a varsavia e infine è lo spazio dedicato a domande e risposte quindi do la parola al professor giovanni che ci dà la bella notizia delle polo per cominciare stiamo preparando le polo e quindi i ragazzi lo sapevano poi ne parliamo più approfonditamente che vogliamo sviluppare una sorta di anti merchandising perché anziché imitare ronaldo noi vogliamo ispirarci a noi stessi per realizzare noi stessi nel durante il percorso di masse europee questo è un fotomontaggio io spero di potervi mostrare una polo vera al prossimo webinar che credo che si tenga il 5 di marzo poi andiamo a vedere quindi ragazzi benvenuti benvenuti noi siamo l'università di Bari siamo la scienza quindi come abbiamo detto col professor magnifico rettore bronzini noi dispensiamo conoscenza a tutti quanti perché noi andiamo oltre l'assunzione mica ci accontentiamo del lavoro noi già pensiamo a che cosa succede oltre l'assunzione perché non interessa le relazioni professionali durature e quindi prima di cominciare il webinar Sabrina in modo che vi mette tutti in riga vero Sabri? Ah no sono tutti molto bravi se qualcuno perché sanno tutti che una volta arrivata la borsa di studio devono mettersi in regola con i pagamenti qualcuno negli ultimi giorni ha ricevuto la borsa di studio quindi sta già provvedendo al pagamento se qualcuno servisse Liban può contattare o me o Lucia e provvederemo nel mandarglielo naturalmente chi invece sta aspettando l'erogazione della borsa i tempi sono quelli della regione ma proprio ieri è stata pubblicata la nuova graduatoria quindi ovviamente prima si compilano tutti i documenti e si chiede l'accredito dell'80% prima si ricevano i soldi quindi al più presto inizieremo non appena la regione pubblica i documenti inizieremo anche con i ragazzi della nuova graduatoria a compilare tutto e faremo tutto nel più breve tempo possibile e quindi la vera sorpresa è che abbiamo tantissimi nuovi vincitori di borsa e che vorremmo festeggiare in questo webinar vero Sabrina? Esatto perché sono risultati tutti i vincitori di borsa quindi Aurora, Pasquale, Antonella, Rossella, Deborah, Mariana, Raffaele, Antonio, Anna, Fabrizio, Emanuela, Serena, Stefano, Serena, Lucia, Michelangelo, Roberto, Francesco, Federico e Giovanna sono tutti i risultati vincitori di borsa quindi aspettiamo solo i documenti pubblicati dalla regione poi provvediamo a continuare con i prossimi step per ricevere la forza di studio e quindi un benvenuto a bordo a tutti questi 19 nuove arrivati che comunque erano già a bordo Sabrina e quindi è un Ari benvenuto e diamo un Ari benvenuto anche a mister Andrea e ciao mentor abbassador se volete contattare sempre a più 48735154012 che ci parla delle novità del prossimo webinar eccetera eccetera vero Andrea? Vero prof, buonasera ragazzi, buonasera a tutti allora, quindi mi conoscete, lì c'è anche il mio numero più 48735154012 parliamo di calendario quindi vi invito al prossimo webinar che si terrà giovedì 4 marzo alle ore 18 quindi anticipiamo rispetto al consueto webinar del venerdì questa volta facciamo innovazione di processo e lo anticipiamo a giovedì poi colgo anche l'ordine venerdì c'è una lezione esatto, esatto colgo anche l'occasione per introdurvi il nuovo scheduling riguardante appunto la parte del goal setting e la revisione curriculum come fatto per le prime con LinkedIn per le call sul bilancio di competenze abbiamo creato un nuovo foglio elettronico da condividervi in cui ci sono gli slot riservati gli orari sono sempre gli stessi dalle 10 alle 11, dalle 15 alle 16 al fine di poter discutere insieme in merito appunto al workshop sul goal setting e alla revisione e ottimizzazione del proprio curriculum next prof bene in merito alle lezioni sul job mindset quindi sulle soft skills vi colgo l'occasione ancora per invitarvi alla prossima lezione che si darà il 12 marzo con la professoressa Carla Del Russo nonché psicologa del lavoro e il 18 marzo è un importante webinar con un nuovo partner di master europei Europe Language Jobs che abbiamo introdotto a gennaio e il 18 marzo seguirà un webinar chi è Europe Language Jobs chi ha seguito, chi ci segue da tempo lo conosce già è un portale di impiego a livello internazionale loro sono un punto di incontro tra imprese e candidati per tutta Europa la multinazionale dell'assunzione esatto, una sorta di multinazionale dell'assunzione citazione del prof e sono quindi un portale multilingue sono il numero uno in Europa infatti condividono all'incirca 2000 offerte di lavoro al mese master europei nel suo obiettivo di dare conoscenza ha voluto anche stringere questa partnership con questo importante portale di impiego al fine di aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo professionale quindi il vostro lavoro dei sogni oltre ad andare oltre l'assunzione scusate la ripetizione però volevo ripetere la citazione del prof noi andiamo oltre l'assunzione questo è quanto ragazzi quindi ci vediamo presto ovviamente vi verrà inviata un'email ed un messaggio con il link per collegarvi al prossimo appuntamento sul goal setting e revisione curriculum quindi buon webinar e a presto quindi ragazzi occhio al calendario 12 marzo soft skills job mindset con la psicologa Carla Dello Russo e poi 12 marzo abbiamo le lucine colorate di Europe Language Jobs la multinazionale dell'assunzione che abbiamo qui anche grazie al grosso contributo di Giulio che si è messo in contatto con loro e abbiamo stretto anche una formale collaborazione sia con l'università polacche e sia con l'università degli studi di Bari quindi grazie Giulio e ci vediamo il 18 per questo bello speech di European Language Jobs che poi ci potrebbero venire a trovare alla fine del percorso direttamente in Polonia per fare delle consulenze one to one per tutti quelli che fossero interessati andiamo al piatto caldo di oggi innanzitutto che la nostra prima trasferta è in UK dove vogliamo andare noi è a Colchester e le notizie sono molto incoraggianti e che loro già da dicembre hanno cominciato a fare le vaccinazioni io ho parlato con i dirigenti del Colchester la prima informazione che mi hanno dato è che diversamente dall'anno scorso ci sono molte famiglie disponibili ad accogliervi perché? perché stanno tranquilli perché si sono tutti o quasi tutti già vaccinati e quindi una volta che è vaccinato uno si sente protetto e può accogliere gli altri quindi la campagna di vaccinazione va molto bene in UK e altra notizia questa proprio ufficiale da parte del premier anglofono Boris Johnson UK riapre ai viaggi internazionali dal 17 maggio cioè ufficialmente hanno detto che loro si aprono internazionalmente a partire dal 17 maggio notizia confermata dagli altri organi di stampa anche inglesi anche dalla BBC ed è per questo che poi sulla base di queste informazioni abbiamo potuto fare il nostro calendario ufficiale quello proprio preciso ma prof ci potete dare le date precise e prima ci affidavamo alle mani del signore e ora ci affidiamo alle mani di Johnson ha dichiarato questo stanno facendo una campagna di vaccinazione efficace quindi è molto probabile rispettare questa data che loro hanno pronunciato e quindi programmare già la prima trasferta e programmando la prima trasferta possiamo programmare tutto il resto e cioè l'alloggio in Polonia subito dopo e subito dopo ancora Dublino e Bruxelles comandiamo a calendarizzare quindi le nostre lezioni prima si va all'Uniba attualmente ancora non è possibile fare le lezioni del Master per l'Uniba ma è ragionevole presumere che lo potremmo fare a maggio anche in considerazione del fatto che anche l'anno scorso senza vaccino quando si avvicinavano i mesi caldi e molto caldi la curva del virus scendeva giù per cui noi già calendarizziamo l'Uniba spostandola di un mese a un mese e mezzo poco prima della partenza a Colchester che fissiamo per il 17 maggio cioè la data ufficiale pronunciata dal governo britannico ed ecco la nostra calendarizzazione quindi tutti i Master tranne il turismo e quindi Web Marketing, Higher Banking e Certified English fanno le lezioni all'Uniba a casa mia cioè a casa del prof nella sede di Taranto il 7 maggio e il 13 e il 14 maggio mentre solo quelli del turismo come la brochure fanno le lezioni presso il Hilton di Lecce in cui tiene la lezione anche il direttore che si chiama Giancarlo Di Revenuto il direttore del Hilton e che vi mostrerà anche il suo albergo che è uno dei pochi che è sotto Covid addirittura marginato quindi c'è tanto da imparare dal nostro direttore quindi tutti quanti del turismo ci vediamo sempre a casa mia all'Università di Bari con il Dipartimento Ionico il 7 maggio e poi al Hilton di Lecce il 14 e il 15 maggio e sulla base delle dichiarazioni governative ufficiali del governo britannico noi partiamo proprio il 17 maggio e quindi a Colchester e quindi facciamo dal 17 maggio al 7 giugno e quindi esattamente tre settimane in cui poi a seconda dell'opzione scelta farete tre settimane una settimana se siete della First due settimane se siete della Business una settimana se siete della Eco di conseguenza se finisce il 7 giugno il 7 giugno può cominciare e possono cominciare i due mesi in Polonia e quindi dal 7 giugno al 7 agosto Dublino e Bruxelles da calendarizzare dopo agosto quindi come vedete abbiamo tante certezze e cominciamo ad analizzare i singoli step del calendario di conseguenza avendo spostato di un mese abbiamo un mese in più per fare lezione e quindi cosa facciamo? scorporiamo alcune ore della Polonia e facciamo online quindi ci troveremo un po' di meno di ore da fare in Polonia e un po' di più da fare online di conseguenza scorporiamo anche alcune ore che avremmo dovuto tenere all'Università di Bari perché originalmente avevamo previsto 9 più 9 più 9 lezioni in presenza scorporandone 3 al giorno ne faremo 6 più 6 più 6 quindi con un programma più leggero quindi all'Unipo facciamo 3 slot da 6 ore anziché 9 a Lilton quelli del turismo Lilton di Lecce in Polonia la maggior parte delle lezioni sarà quindi concentrata il primo mese perché avendo un po' di meno ore il secondo mese diventerà molto più libero libero tra virgolette perché lì concludiamo il corso Cambridge e soprattutto tutto il team di Weepjobs sarà impegnato a collocarvi il più presto possibile nel mondo del lavoro alcuni finali stagi noi contiamo di collocarvi la maggior parte direttamente nel mondo del lavoro con un'assunzione diretta quest'anno secondo me ci possiamo riuscire perché siamo ancora più attrezzati anche grazie all'alleanza con European Language Jobs è un'altra agenzia interinale che si chiama Career in Poland quindi come vedete la fase Uniba tutti i master salvo il banking ci vediamo a Taranto il 7 maggio e poi il 13-14 maggio nella notte tra il 13 e il 14 maggio il prenotamento ve lo regala masse europee all'Hotel Palace che sta vicino al Dipartimento Ionico mentre il turismo c'è un delay di un giorno per cui ci si vede tutti quanti il 7 maggio a casa mia all'Università di Bari sede di Taranto e poi all'Hilton il 14 e il 15 maggio nella notte del 14 e il 15 maggio quella ve la regaliamo noi al Hilton ed ora andiamo a vedere la fase in UK e cioè a Colchester che va esattamente dal 17 maggio al 7 giugno diciamo subito che quelli di Colchester ci hanno detto come ci avevano detto anche l'anno scorso che in alternativa il corsista può chiedere di fare il corso online di 60 ore per la First di 40 ore per la Business e di 20 ore per la Economy questo che significa che uno può anche dire ho paura del Covid per esempio quindi rinuncio ad andare in Inghilterra e mi faccio le ore online siete liberi di farlo anche se sappiamo che tutti o quasi tutti siete già pronti per uscire di casa perché ormai sto lockdown sta mettendo a dura prova la nostra pazienza stare chiusi dentro casa e poi come poi andiamo a vedere ci avete fatto tante domande sugli aerei e quindi siamo lieti di comunicarvi che il caso vuole che esista un bel aereo della Ryanair proprio il 17 maggio per andare a Colchester e che noi stiamo anche prenotando per noi stessi e quindi il lunedì il 17 maggio attualmente a 22,94 euro è possibile partire per Colchester dove poi organizzeremo dopo il mezzogiorno a Londra a Stansted una navetta un servizio di navetta se i ragazzi lo vorranno credo che poi l'anno scorso l'ho organizzato la scuola per cui ogni ragazzo metteva qualche cosa per pagare questa tratta e si andava tutti quanti insieme a Colchester e quindi Ryanair fa proprio la tratta da Bari a Londra a Stansted il fatidico il 17 maggio Emma se poi Johnson cambia idea cambiano le date tranquilli ci hanno pensato quelli della Ryanair siamo in epoca Covid quindi anche le compagnie aeree persino la Ryanair che è molto rigorosa ha cambiato la sua politica di acquisto dei biglietti e come possiamo leggere sappiamo che i tuoi piani potrebbero cambiare da un momento all'altro pertanto abbiamo eliminato il supplemento del cambio volo disponibile questo che significa che si può cambiare il volo praticamente in qualsiasi momento senza pagare la famosa sanzione per il cambio volo d'ora in poi potrei cambiare per ben due volte le tue prenotazioni per voi in partenza fino al 31 ottobre 2021 senza pagare il supplemento di cambio volo quindi hanno deciso di farci cambiare il biglietto praticamente in maniera gratuito questo ti darà completa flessibilità e tranquillità infatti potrai modificare il tuo volo pagando solo l'eventuale differenza di prezzo tra il nuovo volo ed il volo originario quindi come vedete qua il volo costa 22,94 se per un motivo lo X si deve spostare la data dell'inizio a Colchester se il prossimo biglietto costa 50 euro e tu dovrai mettere soltanto la differenza di 37,06 euro quindi il cambio è possibile per un numero massimo di due volte in maniera gratuita per quanto riguarda poi la fase in Polonia a questo punto soprattutto per quelli della First dovete prendere in considerazione quello di andare direttamente dal UK in Polonia tenendo conto che non faremo le elezioni proprio esattamente il 7 giugno ma qualche giorno dopo e quindi abbiamo fatto una ricerca dei biglietti come vedete anche qui abbiamo se state a Londra per quelli che hanno fatto la First potete tranquillamente prendere l'aereo il 7 giugno e c'è l'aereo della Ryanair per esempio da Londra Stansted che attualmente costa 37,99 sterline quindi quasi una cinquantina di euro e in più potete partire anche con la Wiz che parte da Luton Londra Luton e che ha ben tre voli con quindi tre prezzi diversi tre orari differenti ognuno a secondo di quello che vuole fare può scegliere l'una o l'altra compagnia tenendo conto che per esempio qui se uno guarda il prezzo 37,99 è meno rispetto ai prezzi che appaiono qui che sono 82 o 63 in realtà poi dovete tener conto che la Ryanair atterra a Modlin che è un paese vicino Varsavia quindi poi ci vorrà 45 minuti una navetta cioè dovete pagare la navetta per arrivare a Varsavia mentre WIZ viaggia da città a città in maniera diretta cioè voi atterrate all'aeroporto di Varsavia direttamente e quindi in 20 30 minuti state già nel appartel di riferimento anche la WIZ Air attua una politica di cambio biglietto in questo caso illimitata solo che a pagamento vi consigliamo comunque di farla costa 13 50 sterline quindi stiamo intorno ai 15 16 euro e potete fare il cambio volo online senza spese e avete addirittura il rimborso sul conto WIZ in caso di cancellazione diversamente da Ryanair la possibilità di cambio è illimitata per Ryanair potete cambiare soltanto due volte è solo che Ryan ve lo dà addirittura senza spese ragazzi ci sono molte possibilità quindi studiate bene bene noi vi abbiamo dato queste prime informazioni ci rispondiamo anche durante la settimana nel prossimo webinar di affinare meglio la nostra comunicazione e quelli del banking si domandano come dobbiamo fare innanzitutto quelli del banking che devono andare a Brozoav possono prendere tranquillamente anche i voli per Varsavia che abbiamo visto quindi si può prendere il volo per quello con la Ryanair che sarebbe questo o il volo con la WIZ proprio il 7 di giugno e quindi arrivare a Varsavia col treno andare direttamente a Brozoav con il vantaggio che l'absent la part di Brozoav è proprio accanto è a 200 metri dalla stazione oppure esiste anche il diretto Londra a Brozoav con la Ryanair e che parte a seconda della candidazione che abbiamo visto ora parte il o il 6 maggio ed è prezzato 23,79 sterline oppure l'8 maggio ed è prezzato 29,69 sterline alle 11.40 quindi un orario molto comodo come vedete ci sono tantissimi collegamenti ci sono diversi prezzi anche diversi orari a seconda di come volete organizzare perché poi magari volete fare il weekend a Londra oppure volete arrivare prima in Polonia oppure volete addirittura programmare di ritornare prima in Italia e poi andare in Polonia come vedete c'è l'imbarazzo della scelta fortunatamente e quindi una volta che arrivate in Polonia e ci facciamo la fase dal 7 giugno al 7 luglio che dal punto di vista didattico rimpinguiamo soprattutto con le materie specialistiche in prevalenza quindi quelli del banking vedranno soprattutto materie di banking quelli del HR soprattutto in materia del HR idem per quanto riguarda web marketing turismo è certified mentre dal 7 luglio e 7 agosto visto che buona parte di queste ore le andiamo a consumare durante il mese di aprile online avremo più tempo per lavorare per il collocamento al lavoro ricordatevi che trovare un lavoro è un lavoro e richiede tempo e finalmente possiamo concentrare un mese intero per il collocamento nel mondo del lavoro e in più ci sono le lezioni di soft skills più l'inglese Cambridge per tutti quelli che hanno comprato l'offerta Cambridge o il general English e quelli che anziché fare il Cambridge hanno deciso di fare il general English con i docenti di lingua studio per Wroclaw visto che già la metà dei consisti del banking va già a Varsavia perché hanno acquistato l'opzione Cambridge e quindi il totale sono 22 ne ribarrebbero praticamente 8-9 a Wroclaw abbiamo pensato che la seconda fase si potrebbe fare a Varsavia per tutti con general English e soft skills perché abbiamo notato negli anni scorsi che i gruppi vengono divisi c'è molto dispiacere e quindi se se gli ultimi 8 o 9 che rimangono a Wroclaw si vogliono aggregare a tutto il gruppo di di Varsavia noi assecondiamo anzi proponiamo in questo webinar di fare tutta la maggior parte delle ore del master didattiche a Wroclaw e poi il secondo mese a Varsavia per la ricerca del lavoro più le ore del Cambridge o del general English quindi ricapitolando fase in Polonia la prima fase con prevalenza di materie specialistiche e cioè banking hire web marketing turismo e certified English la seconda fase con prevalenza di inglese e soft skills per il collocamento nel mondo del lavoro come vedete ci abbiamo le idee chiare e tutti i corsi di Groslaw possono fare la seconda fase a Varsavia e quindi ritorniamo al presente dove stiamo facendo le lezioni online vi ricordiamo che offriamo il bonus hard skills le potete vedere tranquillamente sia le vostre 15 ore di lezione se siete dal banking e in più anche le 15 ore di lezione del turismo del web marketing di human resource la certificazione delle ore frequentate costa euro 50 ed è una fia amministrativa che si paga una volta soltanto per tutte le 45 le ore frequentate a secondo dell'uso che volete lo scopo che vi prefiggete con questi certificati ve ne abbiamo fatto uno tradizionale come vedete qua per quanto riguarda il web marketing e poi altri più colorati da esporre per esempio sul social linkedin che fa la sua bella impressione idem per quanto riguarda gli altri master come potete vedere qui di seguito le lezioni le stiamo filmando registrando vi stiamo inviando le registrazioni e stiamo ordinando sulla piattaforma online numero uno che si chiama Kajabi l'abbiamo appena acquistata e troverete qua tutti i corsi che abbiamo svolto finora vero Noemi? vero prof ciao a tutti ragazzi in anteprima infatti in questi giorni stiamo lavorando all'avvio di questa nuova piattaforma Kajabi grazie alla quale la fruizione delle lezioni poi sarà molto più comoda e facile in quanto grazie a Kajabi avremo la possibilità di suddividere le lezioni per argomenti per cui la navigazione diventerà molto più facile e confortevole continuate a seguirci per conoscere i nuovi sviluppi a riguardo che arriveranno molto presto sì e quindi qui vedete c'è una lezione che è stata appena caricata questo è soltanto un piccolo screen se vi ricordate la lezione di Amatulli si divideva in diversi argomenti e quindi abbiamo apertura dei lavori spunti dei partecipanti marketing e gestione della domanda alla fine avevamo un Q&A verrà diviso e titolato in maniera tale che se uno si ricorda che c'era una domanda interessante nel Q&A può andare direttamente nel Q&A e vedere quello che gli interessava questa è una bella cosa che vi mettiamo a disposizione una piattaforma professionale con una titolatura delle singole frazioni delle lezioni riteniamo che aumentiamo ulteriormente il livello online di master europei e andiamo avanti con le singole materie specialistiche ciao Paola che cosa si era professore come sono andate le lezioni finora le lezioni sono andate molto bene sono state davvero molto interessanti si è conclusa la prima lezione introduzione al finance and banking la seconda risk management e la terza anti riciclaggio sono state davvero molto interessanti tefane spaventi e Laura anti riciclaggio e vi ricordiamo che le prossime lezioni saranno il 15 marzo con introduzione al finance and banking con il professor Paolo Brigante sempre dalle 18 alle 20 e 15 per poi proseguire il 22 marzo con anti riciclaggio la seconda lezione sempre con la professoressa Laura Acquaro benissimo e andiamo avanti con quello che aveva chiamato Giulio la sorpresa le polo in realtà la sorpresa c'era stata già la scorsa webinar la fabbrica le sta già producendo ad una ad una perché abbiamo scelto i materiali migliori quindi la grammatura più alta la marca migliore ed anche il il logo quello cucito quindi abbiamo una 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 polo di di altissimo livello anche il prezzo di fabbrica è venuto un prezzo molto alto proprio perché il valore di questa polo è molto alto ma è molto alto soprattutto perché ci rappresenta come abbiamo detto merce ad anzi tradizionale la gente si compra la maglia di Ronaldo perché si vuole sentire come Ronaldo da noi ti compri la maglia dell'app perché sei un'app e quindi vuoi rappresentare al mondo che sei un'app e ti vuoi comportare in conseguenza cioè essere te stesso e soprattutto diciamo noi durante un colloquio di lavoro in cui si mente un po' parecchio e qui noi dichiariamo anche le Power Awards vincitrici quali sono Noemi infatti come ricorderete dallo scorso webinar nel quale abbiamo appunto lanciato l'epolo dei segni al contempo abbiamo avviato i relativi sondaggi della scelta per la scelta delle Power Awards associate al segno il sondaggio poi è stato on per alcuni giorni appunto questi sono i risultati per la giraffa ha vinto la Power Awards innovazione per il cane insieme per l'ape passione con l'ape c'è stato molta c'è stato un gioco forte con il focus poi per il gatto libertà e per la formica ha vinto stabilità sì ottimo e quindi ora andrà cucito più che serigrafato proprio cucito questa Power Awards che va ad incarnare l'essenza del simbolo che può essere innovazione insieme a passione libertà e stabilità e qui vediamo i modelli dell'epolo su cui sta lavorando la fabbrica che si chiama come si chiama corporate image corporate image siamo andati di persona in fabbrica perché vogliamo che le polo siano davvero di altissima qualità rispetto alla scorsa volta abbiamo scelto un verde un po' più chiaro con il logo eccole qua qui ha vinto la Power Awards insieme le altre due hanno tra virgolette perso relazione l'amicizia poi c'è quella gatto come la vedete qui ha vinto la parola libertà mentre al secondo al terzo posto è finita l'autonomia e dipendenza per la formica lo staff ha deciso di adottare un rosso un po' più acceso rispetto a quello un po' più scuro che avevamo proposto la scorsa volta e quindi il modello sarà grosso modo questo ringraziamo anche Momo per aver fatto questi screen e nel caso della formica ha vinto la parola stabilità mentre hanno perso quelle di ordine e sicurezza nel test che abbiamo fatto nel gruppo Facebook l'ape bella gialla vede campeggiare sul petto la parola passione mentre focus e competenza hanno avuto un po' la peggio la giraffa ha vinto l'innovazione secondo terzo posto abbiamo avuto cambiamento e creatività dove potete acquistare sul nostro store e quindi se volete noi ora vi mettiamo a disposizione il link in cui potete scegliere l'animale la taglia e maniche lunghe e corte e aggiungiamo noi se siete maschi e femmina la polo delle femminucce sarà quella per femminucce quella sfiancata quindi un'ulteriore personalizzazione quali sono i prezzi abbiamo già detto l'altra volta e come sapete sono collegate alla sessione strategica una polo 29 euro due polo 49 euro questo fino a 14 marzo poi il prezzo sarebbe aumentato aumenta dal 15 marzo una polo 34 euro due polo 57 euro e poi visto che sono polo di alta qualità abbiamo scoperto che già in fabbrica costano parecchio dal 17 marzo abbiamo un prezzo più alto quindi prima della partenza in UK una polo costa 39 due polo costano 63 e come vedremo tra un poco sono collegate con la sessione strategica che si fa in sessione plenaria in cui c'è il prof gli psicologi e gli esperti di web jobs andiamo avanti con la didattica con la nostra web marketing ambassador Noemi come stanno andando le cose nel web marketing Noemi abbiamo avuto tre lezioni in questo mese di febbraio sono state molto interessanti con diverse interazioni infatti il 10 con il prof Amatulli abbiamo parlato di abbiamo fatto un'introduzione al web marketing con Adriano Corso poi il 17 abbiamo parlato di Inbound Marketing e Lead Generation e il 24 febbraio con Momo abbiamo appunto parlato di web advertising e quindi abbiamo visto Adriano Corso Momo e cosa ti aspetta nel mese di marzo Noemi? a marzo avremo invece due lezioni il 24 infatti parleremo di email marketing con Marcello Cosa il prof Marcello Cosa e il 31 proprio con il nostro prof giochiamo in casa parleremo di strategi con la giraffa una bella lezione di strategi per capire che al di là di una sponsorizzata c'è tanto tanto altro e quindi ora passiamo velocemente alla sessione strategica psicoprofessionale quindi invito Carlo e Paola a discuterne siamo rimasti felicemente sorpresi perché già in nove si sono prenotati abbiamo fatto le sessioni strategiche sono state davvero molto utili state molto utili sia per ragazzi sia per noi per conoscerli ancora meglio a che cosa serve la sessione strategica psicoprofessionale a tracciare la rotta nella prima fase del master l'abbiamo fatto con le psicologhe in particolare con con Paola per preparare la sessione strategica noi chiediamo mandiamo inviamo un modulo e poi lo facciamo compilare allo studente quindi ci prepariamo il terreno prima di affrontare la sessione plenaria vero Paola? esatto prof perché noi tracciamo una sorta di consulenza di processo di Edgar Shane in cui ci si concentra maggiormente sin dall'inizio una sorta di processo di comunicazione dove proprio il consulente ad occuparsi del proprio cliente in questo caso solo studente e lo indirizza in qualche modo nella risoluzione del problema senza dargli la soluzione concentrandosi maggiormente su elementi come il comportamento il tono di voce il linguaggio non verbale ecco proprio durante questa consulenza ci si concentra sulla breve storia dello studente ed è proprio nel modulo iniziale dove lo studente introduce se stesso quindi la propria storia identificando chi è cosa fa cosa ha fatto e soprattutto chi vuole diventare nella seconda parte va a inserire quello che si aspetta dalla sessione strategica ognuno di noi ha delle aspettative magari alcune possono riferirsi allo sviluppo di determinate competenze come le soft skills per altri sarà invece lo sviluppo delle hard skills è differente un'altra domanda è cosa ti aspetti dal master anche in questo caso le aspettative possono essere differenti per poi andare a identificare quello che è l'obiettivo professionale ognuno di noi ce l'ha e magari deve scoprirlo lo potrà fare grazie a questa consulenza di processo per poi nell'ultima parte concentrarsi sulla propria emozione afflittiva l'emozione su cui vorrebbe lavorare in questo caso può essere per esempio la frustrazione la demotivazione l'apatia in alcuni casi anche la nostalgia l'ansia ognuno di noi ha un'emozione particolare e in questo caso è proprio lo studente a descrivere due episodi che l'hanno fatto sentire in questo particolare modo e andrà analizzato tutto nella consulenza strategica sì quindi pian piano ci stiamo specializzando nella consulenza di processo il cui maestro Edgar Shane che aveva ideato anche il test delle ancore a cui noi ci siamo ispirati e ci ispiriamo anche al suo modo di fare consulenza che esistono due tipi di consulenze quella diagnostica in cui lo psicologo ti dice si è ammalato qui si è ammalato qui ecco la cura noi utilizziamo un altro metodo cioè quello di creare un rapporto di fiducia con lo studente e di rappresentargli le possibilità sarà poi lui a decidere se continuare a fare il bruco tutta la vita oppure decidere di utilizzare il suo libero arbitro e quindi capire che un bruco potrebbe diventare farfalla solo che farfalla si diventa facendo il primo passettino intermedio e cioè di diventare crisalide molti bruchi rimangono bruchi perché credono di poter diventare immediatamente farfalla oppure perché si autosabotano continuamente le sessioni io sono molto contento di queste sessioni perché conosciamo ancora meglio i corsisti e approfondiamo tutti i risvolti soprattutto psicologici perché partendo dalla emozione affittiva abbiamo capito che si possono risolvere poi tutti i conseguenti problemi soprattutto di caos e confusione che loro hanno nei riguardi del futuro l'altra volta abbiamo ascoltato la testimonianza di Mimmo l'avevamo capito era tutto emozionato ora io vorrei sapere se uno dei ragazzi che ha fatto uno o due ragazzi che hanno fatto la sessione strategica vuole intervenire per dire la sua quindi può alzare la mano quindi se volete potete alzare la mano e dire la vostra se l'avete trovata utile e se potrebbe essere utile anche per i vostri colleghi quindi chi ha fatto la sessione strategica la invitiamo ad alzare la mano se vuole dare un'opinione madalena madalena ciao madalena ci sei? mi sentite? madalena si ti sentiamo buonasera a tutti ciao 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 sì do il mio feedback perché insomma io sono stata felice di aver fatto la consulenza soprattutto perché diciamo in ambito lavorativo mi ero resa conto diciamo già di mio in passato di avere dei piccoli problemi però da sola sinceramente non riuscivo a capire bene quali fossero invece avere un feedback esterno per me è stato molto importante per appunto poter lavorare in futuro sulle cose da migliorare quindi posso confermare assolutamente che insomma che a me ha fatto piacere l'ho trovata molto utile come cosa quindi assolutamente consiglio di farla ecco e che poi alla fine abbiamo individuato il principale punto debole su cui lavorare quindi è molto più semplice concentrarsi su una cosa per poi rispondere tutto il resto esatto poi questa a te se vuoi il bruco no no ci trasformiamo ci trasformiamo diventare farfalla comincia a fare la crisalide certo grazie mille per la spontanea testimonianza maddalena buona serata Cristian anche per dare una testimonianza ciao a tutti mi sentite si ti sentiamo ciao 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 si anch'io volevo confermare le sensazioni della della mia collega anch'io ho trovato la sessione strategica molto utile è stata ricca di spunti interessanti e poi tra l'altro mi sono accorto di essere ma anche molto defocalizzato grazie all'aiuto del prof e di tutto il team di Master Pay sono riuscito anche ad avere le idee chiare su quelle che possono essere le mie attitudini professionali infatti volevo cogliere questa occasione anche per ringraziarvi e consiglio anche ai miei colleghi di partecipare a questa sessione strategica perché si ricevono tante tante informazioni di valore molto utili soprattutto nel periodo successivo al Master secondo me sì e in più il valore lo prendiamo pure noi perché conosciamo finalmente il vostro valore e quindi assolutamente prof e noi apprendiamo da voi facciamo questo scambio e infatti per offrire la consulenza come abbiamo detto la scorsa volta ne affermavamo dieci in regalo al di fuori delle ore a vostra disposizione con psicologi e web jobs perché lì avete delle ore già calcolate sia con web jobs sia con gli psicologi questo è un extra perché è una sessione plenaria in cui c'è il prof insieme agli psicologi e agli esperti di web jobs quindi una cosa completamente diversa ed onnicoprensiva per la serie più occhi vedono meglio di uno e fino ad ora abbiamo agganciato le sessioni strategiche all'acquisto della maglietta cioè la sessione strategica noi ve la regaliamo a condizione che vi prendete la maglietta cioè quando decidete di indossare voi stessi e quindi l'abbiamo fatto per i primi dieci l'hanno acquistata in nove ancora una persona ha la possibilità di acquistare la maglietta a 29 euro e aggiudicarsi la sessione strategica per ognuno per qualsiasi studente che acquistere la maglietta avrà diritto alla sessione strategica ci costa molta organizzazione molta fatica anche nella preparazione solo che abbiamo notato che è una cosa molto importante per determinare un allineamento vostro mentale e nostro nei vostri riguardi ancora prima della partenza a Colchester e quindi vi invitiamo a prendere le magliette ad avere in regalo la sessione strategica con master europei e continuiamo con le ore del Cambridge e vi ricordiamo che sono in totale 72 ore didattiche da 45 minuti perché l'ora accademica è di 45 minuti sia all'università di Bari e sia alla università Vistura per un totale di 3.240 minuti la lezione pilota è svolta di 60 minuti e in regalo abbiamo dato la lezione pilota con Anja Tomacic ricordiamo perché mi hanno chiesto quelli del team di specificare che all'università l'ora didattica è di 45 minuti quindi un ECTS cioè una ora accademica corrisponde a 45 minuti quando organizziamo gli slot online che cominciano dalle 18 e finiscono alle 21 quarto sono 3 ore didattiche accademiche e 2 ore e 15 minuti di orologio questo è il conteggio che normalmente si fa all'università e noi tradizionalmente ci atteniamo a questo tipo di conteggio abbiamo dato la versione pilota con Anja Tomacic poi c'è stata la lezione con Daniela Andrulo che è piaciuta tantissimo oppure questa abbiamo tantissimi docenti di valore sono sempre molto impegnati ed è difficile organizzare il calendario ci è stato chiesto di dare un calendario mensile vediamo se siamo riusciti con la nostra sorridentissima English Ambassador ciao Laura ciao prof ciao a tutti buonasera allora sì finalmente abbiamo ricevuto il calendario mensile direttamente dai docenti di lingua studio e quindi finalmente i ragazzi l'hanno chiesto più e più volte e devo dire che le lezioni stanno procedendo molto bene i ragazzi sono tutti entusiasti infatti adesso abbiamo calendarizzato per quanto riguarda il certified English le prossime lezioni si svolgeranno con la professoressa Ania Barchievic mentre l'ultima settimana di marzo con la professoressa Daniele Andriulo ricordiamo che i partecipanti iscritti al master certified English sono Alessio Valentina Giuliano e Maria dopo di che abbiamo la classe B2A che sempre farà lezione in queste date come potete vedere io ho già comunicato ai ragazzi le date e gli orari con la professoressa Ania Barchievic e l'ultima settimana con Daniele Andriulo i partecipanti sono Giulia Cristian Alessia Nicole Anna Piero e Lucia mentre per quanto riguarda la classe B2B loro faranno sempre lezione con Adam Stanchievic i ragazzi sono molto entusiasti di Adam e anche io devo dire l'ultima settimana invece faranno lezione con la professoressa Daniele Andriulo e queste sono le date che sono state già comunicate i partecipanti sono Emanuela Aldo Giovanni Alessandro e Giovanna mentre per quanto riguarda la classe B2C questa classe farà lezione con Adam mentre l'ultima settimana di marzo farà ben due lezioni con la professoressa Daniele Andriulo in quanto sia la classe C e D hanno cominciato con una settimana di ritardo rispetto agli altri classi della classe B2C i partecipanti sono Katrin Luciana Fabiola Emanuela Aida e Rosa per la classe B2D stesso discorso la loro insegnante Ania Barchievic mentre l'ultima settimana di marzo svolgeranno lezione con Daniele Andriulo ben due lezioni e i partecipanti sono Raffaele Maria Carmela Alessandro e Davide poi abbiamo la classe C1 che invece svolge lezione con Adam e con Daniele Andriulo i partecipanti sono Valeria Maddalena Fabrizio Raffaella Matteo e Vittoria e infine abbiamo la classe C2 i cui partecipanti sono Giuseppe e Raffaella che invece svolgono lezioni con il professor James Kendall tutti i lunedì Ottimo grazie mille Laura e quindi prosughiamo con il nostro palinsesto e parliamo del turismo e quindi con il tutto il riferimento il tutto l'online Sabrina ciao Sabrina come sono andate nel turismo è stato davvero un piacere rivedere sia Adriano che Claudia sono state molto interessanti le due lezioni sia di marketing che di event management quindi sono molto piaciute ai ragazzi e adesso proseguiamo il 16 di marzo con il professor Seluc in organizzazione del turismo e degli eventi sarà la prima lezione in lingua inglese che svolgeranno e poi c'è invece il professor Giancarlo De Venuto con contabilità e finanza il 23 di marzo sì ecco il 23 di marzo ottimo e qui abbiamo il direttore del Lilton Giancarlo De Venuto che poi vi dà l'arrivederci al Lilton poi lo conosceremo di persona al Lilton di Lecce sì e quindi per chi non l'avesse ancora fatto iscrivetevi al gruppo Facebook ancora manca qualcuno perché qui mettiamo in cronologia tutti i materiali le slide tutti i calendari per cui se volete avere un database di tutte le informazioni andate sul nostro gruppo Facebook e trovate tutto lì e continuiamo con HR con Cristiano HR Ambassador come sono andate le lezioni qui siamo un po' più indietro perché le lezioni sono leggermente spalzate vero? le lezioni di HR sono state posticipate circa una settimana e quindi attualmente c'è stata esclusivamente la lezione del 19 febbraio alle ore 18 in cui il professor Savino ha enucleato una prima introduzione alle risorse umane ricordatevi che domani c'è la lezione del professor Giulio di e-recruitment che inizierà dalle ore 14 e terminerà alle 16 e 15 in seguito il 5 marzo ci sarà un'ulteriore lezione dalle 18 alle 20 e 15 in cui la psicologa del lavoro Carla parlerà appunto di psicologia del lavoro inoltre abbiamo già pronto il calendario per marzo infatti il 19 marzo dalle ore 18 alle 20 e 15 ci sarà sempre il professor Giulio che tratterà di methods and orientation techniques infine il 26 marzo alle ore 18 c'è un refuso sulla slide perché è importante sottolineare che la lezione del professor Savino sarà dalle 18 alle 20 e 15 e non dalle 14 alle 16 e 15 sì correggiamo quindi alle 18 facciamo innovazione di processo proprio in diretta correzione di processo allievo che corregge il prof vedi e beh qui prof è sempre così ci correggiamo a vicenda e si migliora a vicenda e quindi ci sarà questa seconda lezione del mese di marzo dalle 18 alle 20 e 15 di e-recruitment col professor Savino Prince Galli ottimo e ora parliamo degli accommodation qui c'è il link per l'acquisto degli eventuali upgrade finalmente siamo andati a Brozav lo scorso weekend perché ha riaperto la nostra struttura di riferimento che è una parte una struttura molto simile a quella di Varsavia e quindi abbiamo preso visione del bilocale e che avete già visto nelle immagini che vi abbiamo prodotto su youtube e quindi è un bilocale ci sono due stanze come succede per Varsavia in cui c'è una stanza che funziona da stanza da letto e poi l'altra stanza che funziona da open space quindi cucina più divano letto e quindi uno studente dorme nel salotto con letto nella seconda stanza c'è l'open space con divano letto esiste anche il mono locale a Abrozo e io chiederei alla regia di inviare il contributo filmato ok il video potete visionare nella nella sales page dove potete anche acquistare l'upgrade direttamente e purtroppo oggi il video in questo webinar non è disponibile ok quindi la nostra paola ha filmato il monolocale di Vrosov in cui c'è camera da letto come vedete qui con con ufficio ecco è una cucina separata a fianco quindi l'ideale per chi vuole stare da solo pagando una differenza e per analogia facciamo pagare la stessa identica somma che si paga a Varsavia anche se il valore venale degli appartamenti di Vrosov costa molto di più che a Varsavia comunque per un principio di uguaglianza vogliamo darvi lo stesso prezzo per cui il monolocale Avrosov uso singolo con secondo mese a Varsavia ora vi costa 390 euro e dopo che scade dopo un mese la promozione costa 450 euro per quanto riguarda Varsavia che cosa possiamo dire Sabrina ciao di nuovo come già abbiamo detto tutti hanno già diritto come a Vroso anche a Varsavia si ha diritto ad avere un posto letto ogni due studenti si ha un appartamento quindi quello è già incluso nel prezzo l'appartamento junior suite da dividere tra due studenti le soluzioni sarebbero uno nella camera privata l'altro studente invece nell'open space il divano che vedete in foto diventa un divano letto matrimoniale quindi ovviamente ci si accorda tra i due studenti e ci si alterna tra camera e open space c'è ovviamente la possibilità anche in questo caso di fare un upgrade e di quindi non condividere con nessuno l'appartamento se si ha bisogno di più spazio cioè se si ha più privacy più spazio più silenzio qualsiasi qualsiasi motivazione o comunque se si vuole anche ospitare qualcuno anche per tutto il tempo del master avendo una stanza ad uso singolo sicuramente molto più facile da fare quindi il più gettonato di quelli che in molti hanno già acquistato è il monolocale standard ad uso singolo che fino a domenica quindi al 28 di marzo è disponibile al costo di 390 euro poi successivamente sarà ancora disponibile ma al prezzo di 450 quindi comunque è un prezzo davvero vantaggioso per avere un monolocale identico a quello di Brozo ci tengo a sottolineare anche se a noi a Brozo gli appartamenti costano di più vogliamo trattarvi in maniera uguale sì in realtà l'unica differenza forse e che comunque gli spazi a Brozo sono leggermente separati mentre non è così in quello di Varsavia però comunque il livello è molto simile e c'è la lavatrice però e c'è la lavatrice e questa è confezione a Varsavia manca confermo quindi comunque a Varsavia c'è soltanto tutte le lavatrici in comune esatto e non singolarmente in ogni appartamento assolutamente vero ovviamente ci sono a disposizione anche altre camere disponibili per l'upgrade che trovate tutte sul sito di Master Europe e nella sezione upgrade accommodation sì e non solo ovviamente per i first ma anche per chi è della della business e dell'eco24 quindi per tutti c'è un'opzione diversa di upgrade sì ora io stavo cercando di andare su YouTube per farvi vedere il il filmato dell'appartamento solo che è proprio lento eccoci qua il tuo canale andiamo al tuo canale ed eccolo qua se riusciamo a mandarlo adesso vedremo il monocale bellissimo armadio c'è l'asse a stiro le grucette e anche questo tipo di scuola poi subito qui abbiamo questa bellissima zona con un bel televisore a terra abbiamo un parquet quindi riscaldati tutta la stanza questa invece con un bellissimo divano questo è il bagno come potete vedere c'è una vasca da bagno sulla sinistra e c'è soprattutto la luce importantissima proseguiamo questo tour sulla sinistra con una bellissima cucina un grano dei frigoritero con questa cucina con tutti comfort un bellissimo pollitore abbiamo un'altra studibile e un forno un'altra c'è qui è un'opzione eccoci qua ciao benissimo benissimo abbiamo visto seppur a scatti l'appartamento la la singe il monolocale a avrozza che è davvero molto bello e molto spazioso e ora passiamo alle vostre domande è stato un webinar davvero molto ricco immagino che le domande che posso aver generato siano parecchie per cui lascio la parola a Giulio per ringarvi alla fase del Q&A ok eccoci con la solita fase delle domande dei webinar del venerdì quindi potete scrivere e alzare la mano ha alzato la mano Emanuela quindi ti sto attivando il microfono ciao Emanuela buonasera 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 prof ciao ciao vorrei avere delle informazioni un po' più dettagliate sulla parte iniziale della partenza delle date previste io farò il business quindi farò due settimane in UK e in quella settimana poi sicuramente ritornerò in Italia quella lì mancante e poi tornerò però faccio a Broxap devo andare perché faccio banking quindi fondamentalmente tutto ciò che è scritto lì oltre agli incontri a Taranto che ci saranno una volta partiti il 17 maggio io scallo di una settimana giusto? sì e quindi praticamente l'Uniba è tutto uguale per tutti anche per il business per Colchester starei due settimane e quindi se andiamo a maggio ora lo vediamo proprio col calendario maggio mi sarebbe dal 17 maggio al 31 maggio sono due sono due settimane esatte ok e poi in Polonia non farò come magari gli altri che andranno a Barsavia ma farò il mese pieno a Broxap giusto quindi voglio dire lo segno vedi stai per la business quindi bus business tac 17 maggio 17 31 maggio ok mentre per Dico è una settimana è facile sì sì quindi in teoria potrei anche iniziare a vedere qualche volo come stava dicendo lei sì magari e poi in Polonia dal 7 giugno al 7 luglio ok sì 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 ok quindi era soltanto una ponte te lo voglio te lo voglio scrivere business perché poi intanto lo buttiamo anche su YouTube questa puntata e quindi uno se le può segnare bene e quindi qui sarebbe 7 giugno 7 luglio ok Manu si capisce meglio ora sì 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 era giusto una conferma così magari inizia a vedere qualche tariffa aerea e per il resto è tutto chiaro speriamo che le date certe sì sì infatti è anche molto comportante che le famiglie sono vaccinate che anche per noi che ci andiamo ci sentiamo più sicuri di certo loro secondo me si aspetteranno che anche noi ci vacciniamo questo noi non lo possiamo prevedere perché loro ormai si sentono tutelati e anche qua in Polonia ti posso dire che il programma vaccinale galoppa vanno avanti meglio così speriamo che pure noi riusciamo a stare al passo allora come loro qualche master di iscritta banking e finance come sono andate le lezioni bene bene no no io anche comunque sono laureate in economia abbiamo trattato nello specifico tanti argomenti che io avevo fatto soltanto velocemente durante la trinnale quindi mi è piaciuto andare un po' più a fondo su questi argomenti come il risk management l'antiriciclaggio sono state delle lezioni molto molto interessanti quindi soddisfacenti un feedback molto positivo e poi mese prossimo c'è di nuovo Paolo Brigante insieme a Lavoracquaro per l'antiriciclaggio e quindi e andiamo avanti con delle date certe perché una volta che l'Inghilterra ha detto la data il disco verde per il 17 maggio noi abbiamo già diramato le date e finalmente si possono acquistare i biglietti salvo poi eventuali ripensamenti dei governi solo che sapete che le tariffe e poi se avete compito i biglietti li potete sempre spostare oppure farvi rimborsare come abbiamo già descritto infatti ho chiesto per questo così inizio a vedere un pochino le tariffe aeree e gestirmi un pochino con tutti oggi mi è arrivata una bellissima notizia perché mi sono arrivati anche fondi regionali quindi per me è una giornata perfetta ho ricevuto l'avvento tutto si sta aggiustando sì sì infatti e poi se ti può interessare l'Apolo più la sessione strategica pensaci ok certo certo grazie grazie a te ciao ciao poi ciao Emanuela c'è Maddalena che ci chiede se per caso è stato specificato l'apertura ai voli internazionali in UK e comunque se è comunque vincolata al tampone all'arrivo io avevo degli appunti anche col casco abbiamo parlato solamente di quarantena perché comunque il tampone all'arrivo potrebbe essere attualmente serve il tampone soltanto che in quella data là probabilmente potrebbe anche non servire dobbiamo aspettare un pochettino l'importante è che ci sia consentito di andare là poi se ci sia bisogno di un tampone o meno lo sapremo a ridosso di quella data ok se ci sono altre domande questo è il momento di farle quindi la risposta a Maddalena che a ridosso di quella data sapremo comunque al momento non è stato specificato non lo sappiamo ah ecco c'è l'altra Emanuela che è in Veneto la Yosca Yosca sì hai vinto la borsa ieri eh grazie sono stra 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 contenta veramente mi si è cambiato il mondo da giù verso su ci voleva questa notizia credi c'è anche una sessione strategica con noi sì sì sono veramente contenta eh perché comunque ripeto le soft skills sono importanti tanto quanto le hard skills forse anche di più quindi ci vuole credo che almeno una volta ci debbano passare tutti a fare un po' di introspezione no e vi volevo chiedere prof praticamente noi quando arriviamo il 7 giugno in Polonia no per chi fa banking il 7 luglio poi va a Barsavia giusto e come come ti ho detto esiste un volo dire ora andiamo a vedere insieme vedi innanzitutto c'è il volo con scalo quindi tu puoi prendere questo volo qua che parte il 7 giugno e atterra a Barsavia e poi da Barsavia prendi il treno e te ne vai a Barsavia questo è volo con scalo se vuoi partire il 7 giugno il 7 giugno puoi partire anche con la Wizz Air da Londra la Wizz Air la cosa accomoda la Wizz Air è che a terra direttamente a Barsavia anziché a Modlin da Modlin all'aeroporto cioè da Modlin per arrivare a stazione centrale dei treni che va a Barsavia ci vuole almeno un'oretta mentre se tu prendi il volo da Wizz Air atterri proprio a Barsavia e quindi in 20 minuti sei già alla stazione centrale per andare a Barsavia o qui è più vicino a Barsavia non ho guardato i paesini quindi da Barsavia è più vicino a Barsavia se vuoi fare se vuoi fare lo scalo esiste anche Londra a Barsavia con la Ryan l'abbiamo visto solo che anziché il 7 dovresti partire un giorno prima quindi con un volo diretto da Londra a Bresavia cioè l'altro nome di Barsavia con un orario comodo vedi alle 11.40 oppure il giorno dopo l'8 maggio il prezzo è ancora basso ed è diretto a Brozo è un volo diretto a Brozo mi spiego cioè tu da Londra parti e arriva a Brozo punto devi andare soltanto a parto a prendere quindi abbiamo un giorno di scarto quindi possiamo variare di un giorno sì 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 poi magari per quelli che vogliono partire l'8 possiamo anche chiedere alla scuola dobbiamo prima chiedere comunque se potete stare un giorno in più in maniera da prendere l'aereo per chi si vuole godere proprio anche il giorno 7 ok ma anche per le partenze per gli ok per gli ok le partenze per gli ok sono perentorie cioè quei giorni precisi perché per esempio a me il 17 maggio ho visto dal veneto non c'è nessuno devo guardare bene però il 17 maggio proprio non c'è niente davvero una dovrei vedere venezia però vabbè mano devi vedere anche i posti limitrofi anche per esempio milano mi spiego eppure che le compagnie aeree aggiornino i loro le loro rotte proprio calcolando il fatto che il 17 maggio è la prima data utile per le compagnie aeree comunque noi abbiamo scelto questi voli perché la maggior parte dei ragazzi parte dalla Puglia mi spiego per capire se i giorni sono perentori cioè se per la Gran Bretagna devono essere quei giorni precisi o se abbiamo un range di un giorno che magari trovo qualcosa prima o dopo il grosso arriverà il 17 e noi organizziamo il pullman che viene 20 euro a testa e quindi c'è questo pullman per chi arriva un giorno dopo due giorni dopo o un giorno prima lo fa a suo carico arrivare a Colchester da Venezia Emanuela può controllare EasyJet o British Airways Sì, dopo guardo bene diciamo le date era per capire se posso variare qualche giorno oppure no se non trovo quei giorni proprio Sì, comunque secondo me lo trovi il 17 Eh, prof ma non ci sono tutti i giorni cioè non sono tutti i giorni poi forse anche presto può essere come ha detto lì che aggiornino man mano magari tra un mese Devo per forza aggiornare Comunque è una cosa fattibile Sì, sì, sì e poi mi organizzola per capire Grazie Non vedo l'ora Pure noi Grazie Buona serata Ciao Emanuela Buona serata Christian ci chiede Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti consigliate di temporeggiare ancora o di acquistarli quanto prima? Eh, raga fate fate come volete io quello che vi posso dire è che noi li compriamo subito il volo del 17 dalla Ryanair io ho già chiesto di acquistare i biglietti per me per lo staff subito perché come vedete il prezzo è molto basso e quindi se poi ci sarà un cambiamento o ci rimborsano i biglietti oppure spostiamo la data se decidete di acquistarlo magari senza bagaglio e lo aggiungete poi al check-in Sì eh solo che io lo prenderei addirittura già col bagaglio perché prendendolo per primo spendi di meno Ryanair c'ha un sistema di vendita dei bagagli che più tardi lo prendi più spendi quindi tenete conto anche di questo Sì tenendo conto che poi quei soldi rimandano dentro Ryanair comunque quindi comprate il volo cioè quello che farei io comprare il volo anche con i bagagli al prezzo più basso in modo da partire al prezzo più basso o in caso di cambiamenti di programma mantenere quel prezzo e spostarselo su un'altra data io lo comprirei senza bagaglio perché poi se ti rimane il voucher è difficile farselo rimborsare bisogna utilizzare il voucher e richiederlo e io lo compri col bagaglio perché voglio dire all'universo che voglio partire ok quindi raga fate come volete noi ce lo compriamo quindi abbiamo risposto a Cristian se ci sono altre domande anche consigli Cristian dice ok tutto chiaro è chiaro che ora abbiamo lanciato tutte queste informazioni le analizziamo insieme ai nostri tutor insieme al nostro staff interfacciandoci con voi durante la settimana e poi facciamo un webinar di controllo la prossima settimana in modo da capire quali sono i punti maggiormente da approfondire e da chiarire perché oggi veramente abbiamo dato delle date certe quindi potete veramente organizzarvi e quelli che hanno vinto la borsa ieri sono ragionevolmente certi anche di avere la borsa di studio prima della partenza a Colchester questa è una bella notizia per loro ok quindi un minuto e 32 un'ora e 32 minuti di webinar siamo ancora in 54 più lo staff ok ci sono altre domande è arrivata un'altra domanda di Michele volevo chiedere se le lezioni in Polonia iniziano subito dopo l'arrivo oppure chi vuole ritornare in Italia e poi ripartire può eventualmente farlo calcola che se il primo giorno è il 7 dal 10 potrebbe cominciare la prima lezione cioè diamo due giorni di scarto quindi poiché ha necessità può sempre attingere alle assenze il bando pass laureati è prima del 70% della frequenza oppure visto che il 7 il 7 giugno o lunedì potreste anche pensare di di partire o venerdì o sabato in Italia per poi ritornare lunedì o martedì in Polonia sì sempre con con Wizz oppure con Ryanair o addirittura con altre compagnie anche con la Lot che è la compagnia di bandiera polacca o l'Alitalia a seconda poi dal posto in cui vi trovate certo quindi abbiamo risposto a Michele se vuole tornare può e poi ci sono anche le lezioni in FAD ah sì per non perdere il contenuto abbiamo la didattica mista e quindi chi chi si trova lontano dall'aula la può vedere online è comunque il nostro impegno di metterla anche sulla piattaforma online Kajabi titolata argomento per argomento così avrete proprio un lavoro eccellente Giovanni ci chiede quando sapremo le date di Dublino Bruxelles quando queste che vi abbiamo dato diventeranno certe una fase successiva in tempi di covid è difficile queste sono queste sono delle date ufficiali calcola che se finiamo il 7 agosto chi è Michele Giovanni Giovanni un nome una garanzia eh già se finiamo il 7 agosto noi dopo il 7 agosto dobbiamo farci una vacanza eh che è da ottobre che stiamo lavorando per voi e quindi da ottobre e quindi ci prendiamo una bella vacanza e quindi contiamo di calendarizzare Dublino Bruxelles tra fine settembre e inizi di ottobre se proprio vuoi un'anteprima solo che aspettiamo che queste date che sono ufficiali vengano confermate poi dall'ulteriore sviluppo della dinamica governativa intergovernativa ok vi ringrazio scusate sono acceso il microfono va bene parleremo più in là Christian vuole prendere la parola vai Christian buonasera a tutti sì proprio leggevo io la data di Colchester il 17 maggio quindi allora il biglietto eventualmente quindi li facciamo per il 17 maggio ma poi dato che credo che arriveremo magari tutti in orari diversi cioè noi arriveremo all'aeroporto di London Stansted giusto? sì ma poi dall'aeroporto di Londra avremo un bus che ci porterà Colchester sì per due anni abbiamo fatto così tutti prendevano lo stesso aereo quasi tutti e poi prendiamo il Pullman e andavamo a Colchester però credo che non lo prenderemo tutti negli stessi orari c'è la National Express che è facile appena esci dall'aeroporto c'è un hangar dove si compra il biglietto trovi il tuo National Express e ti porta a circa meno di due chilometri a Colchester si può arrivare con i mezzi pubblici lo puoi fare col Pullman lo potresti fare anche col treno ah ok ok poi magari è vicina vicina 60 miglia sono poi da Stansted è ancora più vicino sono 45 miglia quindi magari poi possiamo anche fare un video appena atterrati a Stansted per farvi vedere dove si acquista il biglietto da National Express dove si va a prendere a quale Stance si ferma potremmo fare questa cosa per agevolare come è stato ok va bene va bene grazie mille ok finalmente date certe si no sono contento sono contento prof dobbiamo scappare da Foggia ah si il prima possibile il prima possibile nel frattempo come siamo detti guardati i film in inglese i tandem eh si si prof infatti ho già provveduto a mettermi in contatto con una ragazza del gruppo diciamo del gruppo tandem insomma mi sto sentendo in questo momento proprio dobbiamo organizzare una dobbiamo organizzare comunque una conversazione con lei bravo hai visto hai trovato una ragazza come si dice da Fink nasce Fink da cosa nasce Cosa esatto va bene ragazzi ci sentiamo nei prossimi giorni ciao Cristian ciao Cristian buonasera ok abbiamo risposto a Giovanni e a Cristian quindi chi ha altre domande e curiosità potete porcerle ora alzate la mano o scherzo la tastiera oppure rivolgetevi alla vostra tutta di riferimento per chi ha pagato la quota di iscrizione e ha richiesto la fattura dalla Vistula entro settimana prossima arriva non ne abbiamo già mandate qualcuna con Sabrina e Lucia questa settimana stessa cosa per gli upgrade acquistati a febbraio per chi ha bisogno della fattura e la richiesta dal primo marzo verranno inviate tutte le fatture degli acquisti di febbraio per quanto riguarda la WSB avrete la fattura con data dell'anno corrente e chi la richiesta ci vuole un po' più di tempo stanno elaborando le nuove fatture in contabilità infatti siamo stati a Vrozzo lunedì domenica e lunedì dalla direttrice che ci ha assicurato che stanno lavorando per noi la fattura ricordo la fattura dell'università vi serve per chi ha vinto la borsa di pass laureati vi serve poi per dimostrare il pagamento e quindi che avete utilizzato la borsa di studio per studiare e poi vi va in detrazione dalle tasse e quindi è un documento importante ed è sotto controllo ok ci sono altre domande? non ci sono altre domande e quindi andiamo a rivederci per te prof Giulio e i tuoi studenti domani pomeriggio a che ora è? alle 14 alle 14 quindi venite rimpinzati informazioni di valore da parte del prof Giulio il CEO di Master Europei decidiamo da rivederci a giovedì prossimo mi sembra quindi giovedì 4 per un webinar in cui vi presentiamo i nuovi docenti della fase di marzo e andiamo a puntualizzare ulteriormente tutte le come dire le novità del calendario post vaccinale ok? ok c'è una domanda last minute se permetti prof ci arriva da Fabrizio e riguarda Dublino e Bruxelles quindi dice Fabrizio è più che altro una curiosità cosa è previsto in termini di programma didattico nei tre giorni di Dublino e Bruxelles Giulio sei tu che organizzi Dublino e Bruxelles quindi dilo tu quindi Dublino Dublino e Bruxelles sono dei seminari facoltativi quindi la presenza non viene non viene spesa comunque se partecipate viene calcolata come presenza l'anno scorso due anni fa tre anni fa abbiamo organizzato come anche nel nel 2012 nel 2013 a Bruxelles la visita agli organi alle istituzioni dell'Unione Europea quest'anno abbiamo in programma anche di organizzare un tour della città soprattutto nella zona del quartiere europeo Schumann a Dublino abbiamo organizzato dei il primo giorno una la visita della città soprattutto con abbiamo chiesto alla guida Adam di farci vedere cosa si fa quando si arriva a Dublino per cercare lavoro i primi giorni quando si è già fatto il colloquio online e si è preso un lavoro quindi ci ha fatto vedere dove si consegnano i documenti al comune dove ci si registra per il numero di assicurazione nazionale quindi una specie di codice fiscale abbiamo visto proprio l'entrata degli uffici in modo che logisticamente siamo preparati quando arriviamo là con un contratto di lavoro in mano come acquistare il biglietto della metro dei mezzi pubblici quanto costano come si fa a risparmiare e poi abbiamo camminato nel quartiere delle multinazionali e delle aziende poi c'è stato anche un'altra oretta di cammino nella zona più turistica di Dublino poi secondo e terzo giorno abbiamo avuto degli incontri con la direzione dell'hotel dove siamo stati che ci hanno presentato dei programmi per lavorare in hotel in vari dipartimenti quindi non solo turismo ma c'era anche marketing finance perché avevamo degli studenti del turismo perché avevamo degli studenti del turismo quell'anno poi abbiamo fatto un incontro con Rebecca Dunne che è un'esperta ha lavorato per tanti anni per Wallace Myers chiamiamola così una web jobs irlandese che ci ha fatto un seminario su come trovare lavoro in Irlanda poi ha fatto anche dei giochi dei workshop per capire anche come funziona lì il mondo del lavoro e poi abbiamo invitato degli esperti che lavorano a Dublino in varie posizioni c'era un egiziano mi ricordo c'era un egiziano che è cresciuto a Milano e ha sempre voluto lavorare per una determinata multinazionale e dall'Egitto da Milano non è mai riuscito ad entrare in quella multinazionale per poi ritrovarsi a lavorare a Dublino come responsabile quindi come tra virgolette capo dei progetti di Milano addirittura e quindi delle storie uno storytelling che ci possono aiutare ad orientarci nel mondo del lavoro in Irlanda a Dublino e quest'anno se possibile vogliamo fare anche una visita ad Accenture dove ha appena assunto un nostro studente che si chiama Giampiero che si è già messo a disposizione certo Giampiero primo assunto dell'era Covid in Irlanda sì abbiamo risposto alla tua domanda? Fabrizio Fabri perfetto grazie per la risposta ok con Fabrizio forse possiamo mandare i titoli di coda se ci sono altre domande last minute che vi vengono in mente altrimenti al prossimo webinar tramite i tutor di riferimento si è fatta una certa partono i titoli di coda vai Giulio quindi buonasera a tutti con il gruppo di HR ci vediamo domani pomeriggio alle 2 ciao ciao